buongiorno a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti o bentornati sul mio canale oggi torniamo con un video spacchettamento e brochette in questo caso di album 7 mi è arrivato da poco il corriere e questo è l'ordine non ho fatto un ordine altissimo e anche perché questo ragazzi è un periodo un po particolare per tutti quindi è un ordine di poco meno di 180 euro se non mi sbaglio quindi saranno 100 forse sono 160 ora non ricordo esattamente comunque prima di iniziare se non l'aveste ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi mai più un mio nuovo video allora album 7 era questo album quindi con i gel concentrati c'erano un pochino di promozioni interessanti allora apriamo il nostro palco abbiamo la nostra carta fantastica qua abbiamo la nostra bolla e in realtà io ho un prodotto mancante vediamo se riesco a farvelo vedere vedete i simplex per i capelli questi qua sono mancanti e purtroppo è già la seconda volta che mi accade quindi non ho per la seconda volta i simplex dei degli shampoo insomma quelli nuovi che sono usciti allora qua ci sono un po di album ne ho ordinati cinque perché di solito adesso ultimamente sto lavorando tanto con i cataloghi online fortunatamente quindi ho detto ne ordino solo cinque perché sennò mi avanzano sempre poi non so cosa farmene quindi questi sono gli album poi allora mi è stata ordinata questa crema della sensitive camomile una crema giorno diciamo qua c'è scritto un balsamo nutriente per pelli sensibili e ancora non l'ho provato però sto testando tutto così vi faccio poi un altro video top e flop una terza parte visto che me l'avete richiesta con dei nuovi prodotti quindi questo prodotto questa crema costa 11 euro e 95 poi abbiamo un gel doccia questo qui per pelli sensibili molto adatto anche ai bambini stringiamo un po molto adatto anche ai bambini per pelli delicate sensibili molto molto buono anche per chi ha delle dermatite dei problemi alla pelle tipo me lo utilizzo molto spesso e questo costa 5 euro e 95 sono 400 ml poi andando avanti abbiamo i soliti bagno schiuma quindi pesca e anice stellato 400 ml 3 euro e 95 poi abbiamo fiori di tiare e lang ylang sempre 400 ml 3 euro e 95 e mi piacciono entrambi moltissimo anche questo più delicato mi piace però l'ho scoperto da poco poi abbiamo vaniglia sempre 3 euro e 95 e l'ultimo è questo lampone menta piperita anche questo è uno dei miei preferiti molto molto buono dolciastro sempre 3 euro e 95 ovviamente poi allora qua vedo un balsamo mani antifreddo della purarnica questo me l'ha comprato una cliente che ha le mani veramente veramente secche ha un problema proprio alle mani di pelle che si apre e ho consigliato questa perché secondo me è molto molto idratante quindi ho consigliato questa poi mi hanno ordinato questa crema viso della pur camomille me la stanno ordinando molto ultimamente quindi evidentemente deve essere buona io non l'ho mai provata e questa è una crema viso e corpo quindi è un potete usare per tutto il corpo ma anche per il viso e costa 9 euro e 95 poi allora qua aiuto ci sono due struccanti bifasici questi qua i miei clienti vanno pazze anche perché anche io mi sono trovata benissimo quindi li vendo molto e sono 200 ml e costano 7 euro e 95 l'uno poi abbiamo uno shampoo della linea nutrizione che è sempre della stessa cliente che me lo ordina 300 ml 4 euro e 95 adesso nell'albumotto ci sono delle belle promozioni sugli shampoo poi abbiamo un aceto da risciacquo questo qui al lampone diciamo che io non lo amo buona profumazione devo capirlo meglio perché molte di voi mi hanno detto che è un buon prodotto quindi devo cercare di di testarlo un pochino di più comunque questo costa 9 euro e 95 se non mi sbaglio sì e questo costa 9 euro e 95 sono 150 ml abbiamo questa crema della linea riparazione questa è una crema molto buona mi sento di consigliarvela la usa il mio compagno su tutto il corpo al karité e se avete una pelle molto secca ve la straconsiglio anche la profumazione è buonissima costa sempre 9 euro e 95 200 ml poi abbiamo questo prodotto della sensitive camomille che è l'acqua micellare sono 390 ml c'è anche la versione più piccola io l'ho provato e vi farò sapere nei troppo dei top e flop che cosa ne penso quindi questo prodotto costa la versione grande così costa 16 euro e 95 quindi neanche poco insomma poi andando avanti abbiamo sempre della linea sensitive questa crema leggera questa crema leggera calmante sono 50 ml questa costa 11 euro e 95 anche di questa vi farò sapere nel prossimo video top flop poi mi hanno ordinato sempre della sensitive questo prodotto che invece è il gel detergente che costa 9 euro e 95 sono 125 ml e anche qui non vi dico nulla vi farò sapere poi abbiamo un gel detergente dell'elixir jeunesse questa è sempre la cliente che stessa che me lo compra sono 125 ml e costa 8 euro e 95 questo prodotto fatemi anche sapere com'è la qualità video perché ho cambiato un po' di cose quindi fatemi sapere se si vede bene meglio del solito oppure uguale al solito non so allora essendo che l'ordine è meno di 180 euro ovviamente vi mandano solo un sacchettino poi cosa abbiamo allora ok qua abbiamo un latte corpo questo qui è al cocco sono 200 ml come sapete io non amo il latte corpo perché preferisco l'olio corpo però ha una buonissima profumazione ovviamente molto molto cioè simile uguale a quella al bagno schiuma e costa 4 euro e 95 sì allora c'è un saponetto a mango e coriandolo che costa un euro e 95 molto molto buona la mia preferita insieme al cocco poi cosa abbiamo allora c'è una maschera capelli questa qua nutrizione sempre la mia stessa cliente che ama tutta la linea nutrizione che continua a comprarla e ricomprarla insomma costa 7 euro e 95 questa ve la straconsiglio se vi siete persi il video top e flop ve la recensisco comunque molto molto buona qua c'è un altro album poi allora aiuto qua dentro nella bustina ci sono tutti questi campioncini alcuni li ho già tirati fuori comunque questi campioncini che erano il regalo ogni 15 euro di spesa se non mi sbaglio e sono della crema definizione capelli ricci che è un nuovo prodotto di album 8 quindi la proverò perché non l'ho mai provata e le mettiamo da parte ok qui per fortuna mi sono arrivate le pochette perché le pochette in realtà sono finite sono terminate quindi avrebbero cambiato la pochette con quel sacchetto tipo da mettere spalla sacchetto barra zaino con scritto act beautiful forse ve lo lascio qua magari così capite e non mi piaceva quindi meno male che mi hanno dato la pochette per tutti e due i set questa è una pochette molto carina dentro non ha il logo però secondo me è super utile per non so mettere appunto le creme solari e qui c'è anche un taschino se dovete mettere qualche moneta io spiaggia lascio le monete ovunque quindi sarà sicuramente molto utile poi è carina e qui appunto ci sono due set di solari forse sono uguali allora abbiamo due questi qui si scuotono sempre due dopo sole tre in uno della profumazione monoe molto molto buono io lo uso come dopo sole mi piace davvero tanto e non mi fa seccare la pelle non mi fa screpolare quindi è super super consigliato e costa 9,95 euro l'uno poi adesso il prezzo sarà diverso ovviamente perché erano inserite in un set e poi abbiamo due creme protezione 30 quindi due latti solari questi set costavano 19,95 euro l'uno io non amo le creme così con appunto il l'erogatore in questo modo preferisco lo spray comunque vi recensirò anche ai solari prestissimo questi prodotti poi con la pochette ogni set aveva il regalo una pochette e dei prodotti ora vi faccio vedere i prodotti che c'erano in omaggio quindi avevano dentro uno shampoo della linea colore e uno shampoo della linea nutrizione ovviamente qua sono doppi perché i set erano due poi il regalo c'era anche un olio brillantinato della linea monoe questo qua già riformulato con la nuova boccetta e un bagno doccia uno shampoo doccia della linea monoe che mi viene acquistato tantissimo in questo periodo per andare magari in piscina lo utilizzano tantissimo questi due e ovviamente ce ne sono altri due e infine nel set c'erano anche due gommage anti pollution anche questi ve li ho recensiti e a me piace molto come prodotto questo infine mi hanno ordinato anche un duo illuminante questo qui ovviamente non ve lo posso aprire perché è sigillato però questo due illuminante mi hanno comprato che è la colorazione doré quindi la colorazione più scura io ce l'ho questo è il pack nuovo appunto questo era il pack vecchio io ce l'ho così la mia colorazione è sparita però mi pare che fosse universale ci fosse una colorazione sola io lo uso veramente tanto e mi sembra che il mio sia leggermente più chiaro aspettate che guardo alla luce sì probabilmente il mio è un pochino più chiaro di questo leggermente però mi piace molto questo illuminante perché è molto molto naturale come vedete non non è molto presente ma mi piace così per tutti i giorni è veramente utile quindi il prodotto era questo e costava e costava 16 euro 95 perché era scontato ecco qui quindi il pacco è vuoto quindi questo era tutto per l'ordine di album 7 noi ci vedremo prestissimo con un nuovo spacchettamento per ora non ho ancora inviato l'ordine quindi mi sono scritta già qualche ordinino comunque prestissimo ci vedremo con un nuovo spacchettamento di album 8 spero che il video vi sia piaciuto se così fosse lasciate un like iscrivetevi al canale e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video un bacio ciao